buongiorno benvenuti a questa sedia stampa di oggi 27 gennaio sono a trieste quindi mi trovate nella mia stanza d'albergo mettiamola così e vi dico subito che oggi sui giornali c'è tutto come sempre avviene e il contrario di tutto perché i giornali oggi interpretano tutti quanti in maniera un po diversa quello che è la soluzione della crisi il corriere della sera sostiene che si stia lavorando al conte terre ma tutti quanti non negano che ci siano degli ostacoli fortissimi sul conte terre perché non si riesce a trovare qualcuno di responsabile per aiutarlo un gruppo parlamentare si è formato ma come sintetizza bene il giornale che ovviamente molto polemico conte in saldo perché in realtà il conte oggi secondo anche il messaggero non decollerebbe il conte terra stiamo parlando è la cosa forse l'interpretazione più forte che i giornali danno oggi di conte è la repubblica che dice conte nelle mani di renzi e su questo ci sono tantissime interpretazioni perché si sostiene che renzi in realtà voglia fare un governo con una maggioranza un po allargata ma non ci deve essere conte e c'è invece che si sostiene che che renzi a questo punto ha dato il segnale fondamentale e potrebbe accettare di ritornare in un governo conte completamente rivisto in cui molti dei ministri attuali di conte non ci sarebbero più in realtà poi ci sono i soliti temi della settimana il recovery come spiega repubblica è in allarme l'europa perché non abbiamo fatto il recovery insomma in realtà c'è il trick e track della politica in cui non c'è un centro fondamentale beh è divertente come vi posso dire il il titolo del quotidiano nazionale e anche l'interpretazione del quotidiano nazionale cioè il fatto che conte sia caduto nella trappola cosa che alcuni dicevano in descrizione delle settimane scorse perché si sia si è dimesso e una volta che si dimette si sa come si entra al quirinale ma si sa anche come si esce dal quirinale senza più l'incarico di presidente del consiglio neanche quello esplorativo e quindi con difficoltà sempre maggiore di poter ritornare a fare presidente del consiglio ma le alternative oggi significativo mi sembra sia sul corriere della sera o sul repubblica che ci sono tutto già iniziano già a circolare i nomi e quando circola i nomi come modestamente abbiamo fatto anche noi di quarta repubblica con bisignani allora vuol dire che qualcuno sta lavorando un'alternativa i nomi sono i soliti anzi si aggiunge qualcuno gentiloni ritorna come possibile presidente del consiglio allora vi dico io ma come possiamo pensare di risolvere i problemi di questo paese con gentiloni l'abbiamo già avuto forse non ve ne siete ricordati ma noi abbiamo già avuto presidente del consiglio gentiloni si è distinto per essere presente il consiglio più in colore della storia repubblicana e forse quello che ci serve oggi qua ci serve un colore non quello del coronavirus ma il colore di qualcuno che prenda delle decisioni delle scelte che non si faccia sottomettere dal cts che abbia un'idea di quello che deve essere il paese insomma io penso che su questo possiamo parlarne ancora molto però in realtà ancora i giochi sono tutti da fare in questo momento quindi le questioni sono renzi se appoggia conte e si sostiene di no renzi che tipo di governo nuovo con quali nomi appoggerà perché oggi renzi nonostante non abbia molti voti alla nei sondaggi né a molti determinanti per una maggioranza eventuale e poi c'è la seconda questione oggi tutti i giornali e parlano di indiscrizioni sul fatto che centrodestra si presenterà unita alle alle consultazioni e secondo me già sembra è un segnale incredibile perché questo è si vuole sempre dire che il centrodestra disunito si vanno a cercare le dichiarazioni di berlusconi tutti noi sappiamo che l'area pansè di berlusconi e di andare al governo comunque sia ma il punto fondamentale che poi quelli si presentano al curinale tutti e tre insieme ma forse si presentano tutte e tre insieme il partito democratico e i renziani e leu e anzi all'interno del partito democratico siamo tutti davvero convinti come ci hanno raccontato i retroscena in questi giorni che all'interno del partito democratico sono tutti della stessa idea di come uscire da questa crisi ci sono i renziani nel partito democratico ci sono gli amici di bersani nel partito democratico gli amici di conti nel partito democratico insomma voglio dire ci si va a lamentare che forza italia possa unirsi disunirsi rispetto al centrodestra ma non si considera quanto sia il pastrocchio all'interno della sinistra detto questo ovviamente un grande tema di dibattito perché mentre soprattutto la meloni chiede soltanto le elezioni e comunque ha un ottimo beneficio nel andare all'opposizione e continuare a stare all'opposizione forza italia sembra sempre più tentata all'idea di un governo nazionale comunque ha ragione oggi sostanzialmente l'interpretazione come si dice di sallusti e che dice attenzione all'opposizione al centrodestra e anche ed è importante che il giornale di berlusconi scriva nessuno aiuto che affonda c'è l'opposizione dura e pura e non si permette di dare una mano a conte perché in questo momento sarebbe una cosa da pazzi quindi l'idea del giornale è che l'opposizione deve essere dura e pura e che il pd e il movimento 5 stelle in realtà iniziano a pensare che non sia più un tabù sostituire conte molto divertente adesso io ve lo devo dire subito perché il pezzo di alessandro gnocchi in tutto questo contesto sulla prima pagina del giornale è il senso di quello che io penso negli ultimi mesi e dice alessandro gnocchi distrutta un'azienda familiare su quattro mentre noi parliamo di crisi e alessandro gnocchi dice che è straordinaria questa idea perché il covid ha realizzato di fatto il sogno di marx laddove è fallito il socialismo reale potrebbe riuscire la pandemia ieri è stato diffuso un dato drammatico un'azienda familiare su quattro rischia di chiudere la percentuale è calcolata a ribasso le piccole imprese che non hanno una struttura finanziaria in grado di leggere la crisi del lockdown sarebbero tutte dunque in grande difficoltà ma la cosa stupenda anzi drammatica è che il fondo monetario internazionale ieri oggi ci giornale è scritto così a un passò e sembra che sia un piccolo dettaglio ha ridotto la crescita italiana dal 6 mi sembra per cento che era prevista nel 2021 al 3 per cento allora vi faccio un po questo schemino l'anno scorso abbiamo perso 10 per cento il peggior paese europeo quest'anno cresciamo se va bene del 3 per cento cioè nonostante si siano immessi 160 180 miliardi di euro in questa economia non sono serviti assolutamente a nulla perché del tutto evidente perché se la pandemia continua ad essere affrontata con il lockdown questo è un paese che non uscirà mai dalla crisi vorrei continuare visto che siamo sul giornale su un terzo tema che i giornali oggi e raccontano e ovviamente perché siamo nel periodo e nelle nell'epoca della giornata della memoria il pezzo tra i migliori secondo me è quello di fiamma nierenstein che dice perché noi ebrei non vogliamo essere vittime quando è lì vice scrisse le sue prime memorie di buchenwald e le scritti gli di in idish nel 54 su una nave che lo portava dall'europa al brasile più anni c'è il concetto il concetto della del vittimismo delle dell'essere considerate vittime è una scelta diciamo di orgoglio che una parte secondo me molto forte del popolo ebraico ha deciso dice fiamma nierenstein di interpretare io sono penso che sia uno dei pezzi migliori oggi fatti come spesso capita quando si parla di fiamma sui giornali l'altro tema della giornata non possiamo non dimenticarlo è quello che è diventato un vero e proprio scontro politico e su questo c'è ragione la lombardia lo sapete io ne ho parlato a lungo con la moratti ne ho parlato tante volte qui l'istuto superiore della sanità dice e ovviamente il giornale che più induce su questa cosa è ovviamente il messaggero che l'altro giorno con aiello ci raccontava della disparità tra roma e la lombardia e hanno fatto una battaglia contro la lombardia che conoscete bene oppure la lombardia dicono che ha fatto una battaglia contro i romani che conoscete altrettanto bene ma in sostanza l'istuto superiore della sanità dice schiaffo alla lombardia dati sbagliati per 54 volte il sospetto chiusura non dovuta il governo inviste nel siero italiano cioè sostanzialmente stiamo investendo 80 milioni di euro di arcuri su un siero italiano che c'è da scommettere che quando arriverà sa del tutto inutile ma lo dico con affetto perché in realtà e poi troppo poco lo vedremo i sieri non si improvvisano con i soldi di arcuri ma la cosa della querella tra lombardia e l'istuto superiore sanità di sanità è fondamentale perché la lombardia a questo punto non ci sta più si è rotta le scatole ce l'ha spiegato in tutti i modi la moratti l'ha spiegato anche in tutti i modi fontana cioè qui stiamo parlando di un algoritmo che è sbagliato di un algoritmo che non tiene in considerazione il fatto che la lombardia oggi sia con un grado di ospedalizzazione con un con delle strutture con la capacità di recettività con un tipo di contagio certamente non in una situazione peggiore rispetto a quella non so della campania della calabria e dello stesso lazio eppure la lombardia magicamente deve essere considerata una specie di zona rossa e l'istuto superiore sanità dice che ci sono 54 volte dati sbagliati la lombardia li accusa dicendo ragazzi qua voi state facendo politica contro la lombardia è altro che ente tecnico voi siete un'anima in partita l'altra cosa che vi volevo far vedere è il fatto quotidiano il giornale di Conte sul giornale di Conte insomma lì loro ancora pensano che ce la possa fare quindi Conte ci riprova arrivano i responsabili ma ancora non bastano e quest'idea del fatto quotidiano che sia la ricerca disperata dei responsabili è una cosa che mi fa veramente sorridere se non piangere il fatto quotidiano che lì ha grappato a Conte e spera che arrivino i responsabili vorrei concludere questa brevissima rassegna stampa perché oggi voglio dire abbiamo questo impegno qui a Trieste e in questo caso però ve la voglio far vedere davvero questa cosa è l'intervista al Pascal Soriot amministratore delegato di AstraZeneca dice falso che dirottiamo le fiale cioè i sorrisini di Arcuri quando Arcuri fa le cause preventive ad AstraZeneca che non è stata ancora autorizzata e che dice che loro dirottano le fiale dove gli conviene di più e dove le vendono di più e dice ma AstraZeneca con l'Unione Europea non ha alcun obbligo questa purtroppo è un'intervista che è a pagina 13 di Repubblica ma questa bisognerebbe stamparla bella in faccia a quei fenomeni che pensano che l'Europa è stata fenomenale ma perché questi intoppi non sono avvenuti nella catena di produzione delle dosi destinate negli Stati Uniti? ne abbiamo avuti ma il contratto di fornitura con il governo britannico è stato firmato il contratto di fornitura con il governo britannico è stato firmato tre mesi prima di quello con l'Unione Europea tre mesi prima e questi fanno i fenomeni abbiamo avuto il tempo di ripararci mentre l'Unione Europea le ha firmate tre mesi dopo e quindi l'Europa ha firmato un contratto con voi troppo tardi fine agosto 2020 rispetto al governo di Boris Johnson prima 30 milioni di dosi ordinati a maggio del 2020 i fatti sono questi il primo contratto di fornitura tra AstraZeneca e il governo Johnson che noi ridicolizziamo quel ridicolo capellone spettinato i fatti sono questi il primo contratto di fornitura tra AstraZeneca e il governo Johnson è avvenuto tre mesi prima dell'intesa con l'Unione Europea Oxford era già in stretto contatto con il governo britannico si sono organizzati per tempo e hanno avuto una partenza lampo i problemi in Unione Europea sono stati un caso e di certo non sono intenzionali io sono francese, molti dirigenti sono europei la nostra multinazionale è britannico-svedese come potremmo mai fare una cosa simile all'Unione Europea? si chiede all'ammisatore delegato di AstraZeneca ma continuo, tra l'altro al momento all'Europa arriva il 17% della produzione totale del vaccino Oxford-AstraZeneca nonostante gli europei siano il 5% della popolazione mondiale e poi questo è un vaccino no profit per noi noi non ne ricaviamo un soldo perché è il vaccino che costa di meno ma noi siamo lì a fare i complottisti, alcuni che fa le cause eccetera semplicemente perché quel fenomeno dell'Europa ha ordinato i vaccini tre mesi più tardi di Boris Johnson e siamo qui ancora a fare il pianto greco perché sarebbe colpa delle grandi multinazionali non dei grandi burocrati di merda che abbiamo il problema è delle multinazionali l'altra cosa che vi segnalo su questo a concludo è il discorso di Boris Johnson in cui ieri con un discorso dice lascia un messaggio dopo che in Gran Bretagna ha raggiunto i centomila morti per coronavirus e dice io offro le mie più profonde condoglianze a ognuno che ha perso un amato padri, madri, fratelli, sorelle, figli e figlie io sono il primo ministro e mi prendo la piena responsabilità sono davvero dispiaciuto e sono veramente sorry I'm deeply sorry questo è quello che dice Boris Johnson quello che comunque rispetto alla UE aveva comprato i vaccini tre mesi prima e quello che ha il coraggio di assumersi le responsabilità a differenza di questi quattro cialtroni che ci guidano in Italia ma anche in Europa e che l'unica cosa che sanno dire è far causa alla AstraZeneca ciao, buona giornata grazie a tutti